Si vivrà uno scontro tra la tutela del diritto d'autore e la tutela che chiedono i giganti del web. Noi naturalmente siamo a favore del diritto d'autore, siamo a favore di quelle case di produzione, dei cantanti che naturalmente vanno tutelati e per questa ragione siamo a favore del riconoscimento di una parte economica da parte dei giganti del web che utilizzano fino ad oggi liberamente tutte queste opere creative.